French Rover Evoque Coupé 2002 SD4 Pure Tech Pack 4x4 Partiamo dal prezzo, è stata pagata 9 mesi fa circa 50.000 euro nuova dal concessionario e non era neanche pronta a consegna da noi risparmiate più di 10.000 euro e avete un'autovettura pari a nuovo ha percorso solo 8.000 km ancora in garanzia della casa assolutamente pari a nuovo, nessuna differenza diciamoci la verità, essere riconosciuti nel traffico cittadino è cosa difficilissima con l'offerta automobilistica che offre il mercato oggi se però la tua scelta è stata per questo modello di autovettura e soprattutto con questa colorazione sicuro ci sei riuscito grazie a tutti grazie a tutti